Federica come fai tu l'intro? Dai fai tu l'intro Federica Ciao a tutti Ciao Lasciami andare No fai l'intro io ti lascio andare E lui e lei Allora fanno tu Veronica Ciao a tutti io sono Veronica lei è Federica E io sono Vittorio Insieme siamo la VittoFamily Insieme a voi ovviamente Dai Veronica dici qualcosa Sono felice Sì siamo tutti felici se tu sei felice VittoFamily come sempre Sempre prima di iniziare il video Se volete anche voi entrare a far parte Nella VittoFamily La squadra più grande del mondo Siamo più di 550.000 Basta cliccare sul pulsante Iscriviti qua sotto il video Dai io vi svelo una cosa super top secret Che ormai fanno tutti quanti Ovvero che se cliccare sul mi piace Qua sotto diventa blu Provateci Cosa fai con questo gonfiatore? Sto gonfiando l'aria Eh ma non puoi gonfiare l'aria L'aria è già gonfia Non puoi farlo La sto gonfiando ancora di più VittoFamily come potete vedere Qua sopra Qua dietro c'è una Federica Che vi sta gonfiando di aria E qua invece ci sono tre scatole Vuote per il momento Ma adesso il nostro cameraman Le andrà a riempire Con tre oggetti diversi E noi dovremo indovinare In quale di queste tre È presente uno di questi tre oggetti Quindi sarà tutto quanto la nostra fortuna Di fidere Ma prima di tutto Dobbiamo fare il saluto Della VittoFamily Venite qua Facciamo il saluto Della VittoFamily Allora Guarda la zappa E salto su una gamba Per mille volte Su una portatina Su una portatina Non potrebbe essere ronda No Ok Ok Basta Basta Ok Il cameraman Dai vai a mettere a posto Questi tre scapole Il cameraman sta sistemando Non Non ho visto questo Non spirciare Non spirciare Oh Oh Tu stai guardando Non devi guardare Non devi guardare Non guardare Facciamo la porta Ok vai Brave Ok È pronto Sì Ok Andiamo a vedere Oh Ci sono tre scatole Cosa fai Fai la batteria Sì Allora VittoFamily Ecco il quale Tre scatole misteriose Qua dentro Ci sono I tre signori patata Ok Perché Stai pure il figlio Sì Stai In una c'è sta il figlio In una c'è sta la mamma In una c'è il papà Allora Secondo voi In quanti queste tre scatole È presente la signora patata Allora Secondo me Il mio sesto senso Mi dice Allora Secondo Federica Dice che sta qua Secondo me sta qua Fuori il secondo me Sei un po' Secondo me Vediamo il tenore E' più forte Un tipo squadra Come questo Vediamo 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 E' grande Questo fa un bel casino Io c'è due Se aspetto un attimo Però qualcosa Mi dice che forse è questo No Questa è la mia No Secondo me è questa Io scelgo questo Il viola Verone che sa Ma è fucsia Ma è viola È fucsia È viola Non mi piace come la mente Apriamo al tre Uno Due Tre Wow Ha vinto Federica il primo round Ma non è cosa Si è rotto il sederino Della scuola patata Ma fa la puzzetta Sta attento Il cameraman sta nascondendo le cose Non guardate Non guardate Non guardate Non guardate Tu prima hai vinto Perché hai sbirciato Capito Hai vinto Ah come sono belle Tutte Ma cosa Rizzi Cosa Eh Le scatole sono pronte Il secondo round Sono i tre squishy Allora VittoFerri Secondo voi In quale scatola Si trova il panda corno Vera Secondo te Allora Vediamo un pochino Panda corno Panda corno Dove ti sei nascosto Qui no Qui no Si Vera Pronti e città Si fammi chiedere la canzoncina Allora Secondo me Sta proprio qua Allora Vera dice Secondo lei Dice che sta qua dentro Il panda corno Secondo me Sta qua E secondo me Ok Allora io scelgo la verde Non abita ancora La mia fa più rumore Aspetta Mi sentiamo un altro Il rumore La mia fa più rumore La mia fa più rumore Di tutte Guardate Diciamo che gli squishy Non è che fanno tantissimo rumore Quindi secondo me Sta qua Ma secondo te Secondo te No Ok Apri prima da io Uno Due E Tre No Non è nella verde La balena Basta aprire Io secondo io Secondo io Apri tu Uno Due Tre Tocca al buffo postino Al minion E alla gallinella Quindi secondo voi Dove si trova il minion? Her Tocca al u Restaurant Allora Federica si è rubata la scatola bussia Che è la mia all'inizio Allora io l'ho detto questa Però Federica l'ha rubata Vera secondo me come si trova il miglior? Verde Ha detto Vera che si trova in quella verde Abbiamo Ok allora a tre apro la mia Uno Uno Due E tre Qua c'è la gallina Perfetto ho perso con la volta Che pizza E la volta di Foxy Freddy è l'orsetto del cuore Che mi piace tantissimo In quale di queste tre si trova Foxy La volpe Allora a giudicare dal colore dovrebbe essere forse questo Perché è freddo, è freddo, è freddo, è freddo, è freddo Cioè Foxy è fiova No però dobbiamo dire Questa è bella difficile Per me questa, per me questa Aspetta Questa non sento niente Allora per il che ho detto però siccome è freddo Si è viola Si trova nella scatola Si trova nella scatola viola Questa è viola Ehm Ma non è viola Ma non è viola È fucsia Ma è fucsia È viola È uguale E poi è lancione Allora Io scelgo la verde perché è più maschile Ma è lancione Ma è lancione Questo è un colore perfetto e minuccio Invece io ho solo maschio e prendo il verde E' l'armoccio E' il colore ruccio E' che c'era anche il colore prato E' cosa ci ripete? E' il colore della natura Allora Ma che apriamo per primo? Questa Allora Posso sentire questo? Io scampio Non so secondo me è sbagliato Che non lo vico io Ok Allora Avriamo la mia 3 2 1 Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non è giusto Freddi dove fu? Si spara la scuola Allora Dice Freddi che sta qua dentro Freddi Dice Freddi che sta qua Allora Abbiamo la 3 1 2 3 No E quindi qua dentro Di conseguenza ci sarà una patata No Non è giusto Ma perché in cosa c'è lì Adesso tocca a Wario Il T-Rex E' l'alieno Ciao Allora Allora Lomino verde C'è come verde Sta qua dentro Aspetta Lomino è l'alieno Ecco Allora Noi dobbiamo trovare Il tirannosauro Questo Guardate Non lo so È difficile Secondo voi Il tirannosauro è della verde Secondo me Il tirannosauro sta qua dentro Le vogliamo scambiare? Si Tu vuoi scambiare questo o questa? Io questa Tu vuoi questa? E invece la Pasquale Vuoi scambiarle fra di voi? No Fermo E' l'alieno Che fa? E' l'alieno E' l'alieno Sì 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 Adesso hai costruito un carro armato Con le scatole? Sì La 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 Questa è il risultato del prossimo La 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 E ci vediamo alla prossima Vedi lì che vieni qua a fare il saluto Ciao Ciao